Sei viva? Sì Però c'ho il titone che non lo sento Il titone non lo sento Vabbè non lo sento, scusate ve l'altro Prepa del titone Ora direi che non lo usiamo ora, facciamo solo il plesso Ma non mi se ne andeva nel giro di 5 minuti? Con un paio d'ore Un paio d'ore? Un paio d'ore? Un paio d'ore? Ok